Libero Quotidiano ha lanciato un sondaggio che sta spopolando in rete e vede contrapposte due porno star italiane. Parliamo di Moana Pozzi e Valentina Nappi. Una bionda e una mora, la prima appartenente alla vecchia scuola, l'altra esponente della pornografia 2.0, la prima divenuta famosa scrittrice entrata in politica con il Partito dell'Amore, la seconda che si definisce una porno star comunista. Moana Pozzi e Valentina Nappi, la guerra a luci rosse è aperta. Due generi di donne e due generazioni finiscono in un nostalgico confronto dopo che la 25enne napoletana ha demolito la Pozzi dicendo è un personaggio conservatore, ricorda e rientra in quel modello di donna che le persone si aspettano. Difesa a spada tratta da Rocco Siffredi, ora Moana Pozzi è virtualmente in gara con la Nappi e i commenti sulle due attrici si sprecano e si dividono tra chi preferisce i modi più raffinati della bionda e chi apprezza invece la sfacciataggine della brunetta. Non manca però chi tenta di esprimere un giudizio misurato e critico. Sono due artiste diverse, una specializzata in amatoriali, l'altra in vintage. Volendo esprimere un'opinione artistica e procedendo per iterazioni, lo stile recitativo della Nappi, leggiamo, si confà più ad un livello qualitativo moderno che sublima nell'interressal mentre in Moana la spinta intimistica è sostanzialmente più preponderante. Noi rivolgiamo il sondaggio a voi, chi preferite tra Moana Pozzi e Valentina Nappi?